Musica Bentornati amici del gameplay sul game oversize Io sono 390 E dopo aver completato la campagna del single player Siamo pronti ad affrontare l'ultima fortezza rimasta del gioco Quella di Pagan Min Che ormai il Pagan non c'è più E possiamo conquistarla un po' più facilmente Vediamo come sarà Questo è il primo video extra dopo la storia principale E ne farò altri Poi bisogna vedere di che tipo Cominciamo a togliergli i rinforzi Anche se mi vedono non fa niente Non mi hanno visto neanche Bene Mi hai visto Bene ma non fa niente Quanto sapevo che sarebbe andata a finire così Vada l'allarme è rimasto Eh che cavolo però Non gli faccio niente Chiamiamo i mercenari Oh non ho lusciato mentire in porte Che cavolo Si ho chiesto aiuto Sì ho chiesto aiuto Sperate pure Vediamo se cadi E' accaduto finalmente Nel bastione Ancora un'altra Vai 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 Una volta quando gli sparavi in testa Gli staccava nel metro Guarda manco per niente È morto è morto Oh sì Beh muori così Sei il modo migliore per ammazzarti Quanti allarmi c'erano Andiamo andiamo avanziamo Nella vanza mercenaria Trovare un medikit sarebbe oro Trovare un sparo alla mercenaria Vabbè quando non muoiono così È impressionante la cosa Muori Bene Ma tre Madonna Madonna Ormai il schierotaro comanda Sono anche delle stocche a fa Vabbiamo con le molotov adesso Sono deboli a fuoco Eh ma sono impressionanti eh C'hanno una mira assurda C'hanno Eh ma sono parato bruciato Oh Fai l'ultima silinga Come Depi Eh ma come lo liscia Eh muori Pure ora eh Ancora narco sì Bene Speriamo di farcela La vedo dura la vedo Scambiamo Possiamo guardare lo stesso Possiamo guardare di due stacche Bene Speriamo guardare di due stacche a fa Tanti corazzati Che cavolo Bene Almeno quello Ce l'abbiamo fatta Aiaiaiaia ma questo è matto Sono contento che c'è tanti proiettili Venite 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 sotto Oh ho sbagliato Duriamoci Ma no dai Impressionante Oh sta qui Cavolo Ah Bene Ti sei salvato eh Oh tu sei qui Che Ma Dove sta l'elicottero È ora È ora di far fuori Quell'elicottero Del cavolo Dove sei Elicotterino Vediamoci va Oh cecchino Madonna il cecchino Ci ha preso il testo Ho fatto headshot L'ho preso Ma che l'avevo preso Ecco Allora l'ho preso Lo vieno Cecchino dov'è? Non lo vedo più Eccolo lì L'ho preso Ma ammazzati Madonna Venite qui contro Medikit Questa La scelta La meno saggia Che abbiamo fatto Per fortuna che non ha distrutto uno Andate Ormai è Quella di trincea Questa Ma è l'elicottero qui Oh chi è Oh Chi è oh Fino di te Dove sei a qui Stai venendo qui Vieni 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 Sì sì Che è la granata Sì Bravo Sei forte Muori Ora l'elicottero A noi Preso Precibida Dai che non ti rendi più E' andato Conquistato ragazzi Ce l'abbiamo fatto Con soli Con soli tre medikit E anche L'ultima fortezza Quella di Pagan Min E' andata Noi ci vediamo Nel prossimo extra Se volete Scrivetemi nei commenti Cosa volete vedere Se qualche missione Secondaria Quello che volete Il multiplayer Boh Io sto cercando Di vedere Un po' l'editor Perché un iscritto Mi ha richiesto Un video Sull'editor Delle mappe Multiplayer Sto cercando Di vedere Se Se sono in grado Di usarlo E' pieno di comandi Però Per ora Se sembra ben fatto Poi se ci riesco A creare qualcosa Di bello Farò un video Ok Vi ricordo sempre Di mettere un mi piace Di commentare Di iscrivervi E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo extra Ciao ciao ragazzi